Musica Abbiamo visto tante cose e ci siamo divertite Che cosa avete imparato? Che non... che non... che be... Che hanno tutti dei lavori splendidi Che hanno tante cose belle, se ne possiamo tanto riciclare Che cosa pensate delle forze dell'ordine? Pensiamo che sono bravissimi Soprattutto i cani Soprattutto i cani, come li allevano Si è concluso a Ortona con una grande festa della legalità alla presenza del prefetto di Chieti Vincenzo Greco e del procuratore di Chieti Pietro Mennini il progetto Educazione alla Legalità pretendiamo il buon esempio promosso dall'assessorato comunale alle politiche sociali in collaborazione con la prefettura di Chieti e l'ufficio scolastico provinciale Una giornata dedicata ai tantissimi studenti, oltre mille che durante l'anno sono stati coinvolti nel progetto attraverso percorsi di educazione e sensibilizzazione nelle tematiche più attuali Il prefetto di Chieti Vincenzo Greco Questa manifestazione è l'epilogo di un progetto che è stato curato dalla prefettura e dall'assessorato ai servizi sociali con la partecipazione molto attiva delle forze dell'ordine Mi ha fatto enorme piacere vedere come questo progetto è stato accolto nelle scuole di Ortone ma anche dalla cittadinanza di Ortone è veramente una festa, una festa della legalità e questo è importante che si inculchi nei ragazzi fin dai primi anni delle scuole questo rispetto delle regole che poi porterà al rispetto della legalità Il percorso ha proposto i temi del bullismo, dell'abuso di sostanze stupefacenti e di alcol di educazione ambientale e di migrazione clandestina e anche due incontri di battito sul tema dello stalking e dei rischi della navigazione in internet per i giovani L'assessore comunale alle politiche sociali Leo Castiglione Educare alla legalità pretendiamo il buon esempio è un messaggio che viene dal basso, quindi dai ragazzi stessi che chiedono una nuova coscienza civile che passa sicuramente attraverso la condivisione di valori che riguardano soprattutto gli adulti che sono i detentori e devono essere i difensori appunto di certi valori per mantenere, cercare di custodire una società più giusta possibile Giornata della legalità in qualche modo è anche il recupero, Assessore perché questo mezzo che il Comune di Ortone mette a disposizione della cittadinanza l'informazione sotto casa, l'informabus, così l'avete chiamato lo avete recuperato dai mezzi dismessi dalla Polizia di Stato Esatto, questo ha testimonianza ormai della collaborazione che c'è tra noi e le forze di Polizia Ha detto proprio bene, abbiamo recuperato un vecchio Ducato ad una cifra che è veramente irrisoria l'abbiamo allestito ed oggi abbiamo un informabus che possiamo definirlo come un ufficio mobile cioè l'informa giovane del Comune in collaborazione con la biblioteca comunale va sul territorio a portare servizi a far sentire più vicina l'istituzione, l'amministrazione alla cittadinanza e a dare un servizio a chi purtroppo è svantaggiata è una persona che ha difficoltà ad accedere ai vari servizi dell'amministrazione comunale Sindaco Nicola Fratino, il centro di Ortona, il corso principale, la piazza principale i gremiti di bambini delle scuole di Ortona per festeggiare la conclusione di questo ciclo di appuntamenti dedicato alla legalità Sì, è anche una bellissima giornata di festa con tutti questi ragazzi qui per il corso in piazza con tantissime autorità presenti a iniziare la sua eccellenza il prefetto, il procuratore, il dottor Menini tutte le forze dell'ordine, la protezione civile una bellissima giornata, soprattutto con tanti ragazzi e questo progetto che voleva e vuole soprattutto avvicinare i ragazzi alle forze dell'ordine per quel che riguarda i problemi della legalità, dello stalking e insieme a queste tematiche anche quelle del rispetto dell'ambiente quindi questi due temi, la legalità e l'ambiente che nella nostra città sono molto importanti siamo per fortuna ancora una città tranquilla siamo stati capaci di accogliere più di mille extracomunitari inserendoli abbastanza bene nella realtà cittadina e siamo una città che tiene molto l'ambiente E avete ottenuto anche quest'anno la bandiera blu? Sì, anche quest'anno abbiamo ottenuto questo importantissimo riconoscimento che premia soprattutto il nostro mare il rispetto per l'ambiente e quindi anche la raccolta differenziale Ecco, una bella giornata di festa grazie a voi di essere qua a portare un po' anche fuori dalla nostra città questa giornata, grazie Colonnello, una giornata della legalità rivolta alle scuole della città di Ortona che ha letteralmente invaso il centro della città una giornata di festa dunque in mezzo alla gente Una bella partecipazione questi ragazzi veramente capiscono da piccoli il significato di una parola importante Legalità significa partecipazione, significa rispetto, significa correttezza e impegno Una bella festa Qual è il messaggio che le forze dell'ordine vogliono dare e trasmettere ai piccoli alunni? Sicuramente l'impegno per gli altri il fatto di essere sempre presenti e disponibili ma con senso di partecipazione e di donarsi agli altri è un dovere nostro Remo Di Martino, assessore alla cultura della provincia di Chieti una festa della legalità a Ortona, la sua città per dire ai ragazzi delle scuole che cosa? Che prima di tutto per essere dei bravi cittadini bisogna rispettare le regole e la risposta di questa mattina dei circoli, dei professori e dei ragazzi e delle forze dell'ordine che si sono manifestate nel verso giusto cioè dei coadiutori dei cittadini è la risposta migliore siamo felicissimi, credo che in tanti anni mai una manifestazione abbia avuto il successo di questa mattina Complice magari anche la bella giornata di sole e poi il centro di Ortona? Ma il sole a Ortona non è un optional forse in altri posti è un optional a Ortona c'è sempre Coriolano Conti, vicecomandante dell'undicesimo reparto volo di Pescara siamo nel corpo della polizia dunque una giornata di festa qui in centro a Ortona con tutti i bambini delle scuole per far vedere loro che cosa? Noi veniamo a mostrare le nostre capacità la possibilità che abbiamo con l'elicottero di effettuare attività a sostegno delle pattuglie che operano a terra dei colleghi che operano in tutte le specialità della Polizia di Stato e in più anche l'opportunità di portare soccorso che è un'altra delle possibilità che ci viene offerta da questo mezzo che è un mezzo potente per cui stiamo lavorando e anche diciamo duramente per cercare appunto di avere sempre maggiori capacità di appunto di portare soccorso sia in mare che in montagna è una cosa che abbiamo realizzato da qualche anno a questa parte e che speriamo quest'anno di accrescere ancora di più Nei giorni scorsi è anche l'anniversario della scomparsa di tre colleghi periti a largo delle coste di Fossacesia Sì, è l'11 maggio è la data in cui è successo nel 2005 l'incidente all'aereo del reparto volo di Pescara è una ricorrenza a cui teniamo tanto e che ricordiamo sempre e anche quest'anno ci siamo stati a Fossacesia per portare un ricordo un simbolo insomma di ricordo ai nostri colleghi proprio nel punto in cui è avvenuta la tragedia La polizia postale è rappresentata a Ortona dal dirigente regionale il comandante Pasquale Sorgonà che cosa state spiegando ai bambini delle scuole di Ortona? Stiamo spiegando fondamentalmente quali sono i pericoli di internet che è una delle nostre competenze specifiche e in più tutto il resto dell'attività che svolge la polizia postale e delle comunicazioni e oggi come oggi internet è uno strumento di comunicazione importantissimo, fondamentale dei quali i bambini e gli adulti non possono ormai più fare a meno però ovviamente su internet si annitano una serie di pericoli che bisogna insegnare ai bambini ad affrontare quindi abbiamo incontrato tutte le scuole di Ortona sia elementari, medi e superiori proprio per illustrare quali possono essere questi rischi I bambini hanno recepito queste vostre argomentazioni? I bambini hanno recepito tantissimo perché noi abbiamo ricevuto tantissimi ringraziamenti disegni, filastrocche, poesie molti sono anche esposti qui lungo il corso di Ortona e testimoniano proprio l'allegria e la gioia con la quale hanno accolto quello che noi abbiamo insegnato loro La polizia postale si occupa spesso nei casi di cronaca anche della clonazione delle carte di credito usate appunto da ignari clienti presso gli sportelli bancari e voi come intervenite? Sì, l'Abruzzo poi bisogna dire che è preso molto di mira da queste bande di criminali che attaccano gli sportelli Bancomat proprio con l'intento di clonare carte di credito e altri strumenti di pagamento noi infatti spesso abbiamo sequestrato molto materiale come ad esempio questo che vediamo qui che serve appunto per clonare le carte di credito io faccio vedere qualcosa questo ad esempio è un dispositivo che viene montato sulla bocchetta dove viene inserita la carta Bancomat e serve per, questo è un lettore di bande magnetiche che serve per registrare tutti i dati che sono contenuti sulla carta Bancomat e questa invece è una telecamera che è incollata alla parte alta dello sportello questa è la telecamera, questa è una penna USB senza involucro per raccogliere tutte le immagini questo è il cavetto che serve per collegarla poi al PC e queste le batterie per l'alimentazione praticamente da questo piccolissimo foro loro riprendono l'immagine della mano e quindi registrano il pin per poter da associare poi ai dati del Bancomat che hanno appena clonato tutti i dati che loro hanno li riversano su un qualsiasi tipo di carta magnetica come ad esempio quelle della raccolta punti del supermercato o altre carte magnetiche di qualsiasi tipo attraverso questa attrezzatura si passa la carta magnetica qua dentro con un programma, questa viene collegata al computer e con un programmino si trasferiscono i dati su un'altra carta magnetica di qualsiasi tipo che funziona a tutti gli effetti come un Bancomat Come riuscite a contrastare questo fenomeno? Noi abbiamo diverse indagini in corso e poi facciamo anche dei servizi di controllo presso gli sportelli Bancomat per vedere se vengono installate queste apparecchiature ma il compartimento Polizia Postale di Pescara diciamo ha una tradizione piuttosto consolidata nel contrastare il fenomeno proprio perché ripetiamo tutto il litorale adriatico che va da Termoli a salire fino alle Marche è preso molto di mira da bande di rumeni e bulgari soprattutto che arrivano attraverso il traghetto direttamente ad Ancona e si stabiliscono lunga la fascia adriatica e anche poi verso l'interno in Umbria, Toscana fino ad arrivare alla provincia di Roma Ci sono anche i Vigili del Fuoco a Ortona per la manifestazione dedicata alla legalità le scuole in piazza Comandante Arnaldo Polidori della sezione di Ortona dei Vigili del Fuoco che cosa avete mostrato agli allievi? Agli allievi come sempre facciamo in queste circostanze mostriamo le nostre attrezzature che oltre alla legalità hanno la valenza soprattutto di soccorso e quindi ci impegniamo sia nel soccorso però come vediamo nello stand la legalità è anche magari costruire illegalità per evitare tutto ciò che poi ne sconsegue come i crolli come il lavoro che purtroppo stiamo facendo all'Aquila, al nostro malgrado come sezione di polizia giudiziaria Siete ancora al lavoro dunque all'Aquila post remoto dopo due anni? Dopo due anni sì purtroppo ancora al lavoro e ci vorrà ancora tantissimo tutto ciò che facciamo nella giudiziaria è affinché sia da monito per le generazioni future e potrebbe rientrare in questo discorso di legalità Ecco, spiegando meglio qual è il vostro lavoro all'interno di questa attività giudiziaria voi andate nelle case, negli edifici che sono crollati e poi che cosa fate? Allora, a seguito dei crolli dove essenzialmente ci sono state vittime si attiva una procedura e noi siamo alle dipendenze dirette del procuratore generale e quindi mettiamo a disposizione tutto ciò che abbiamo di tecnico insieme alla polizia scientifica per prelievi, repertazione e quindi analisi di tutto ciò che potrà dimostrare l'effettiva causa di questi crolli che potevano forse essere evitati Ecco, dalla Casa dello Studente al Convitto Nazionale all'Università stessa dell'Aquila alla sezione di Ortona dove è intervenuta? Ma Ortona diciamo come comando chieti noi interveniamo in tutte queste realtà purtroppo siamo ancora nella Casa dello Studente siamo in tutti i siti che hanno subito i crolli e ci sono state vittime diciamo che sono ad occhio e croce una decina che abbiamo fatto fino adesso E poi parlando di legalità non è stato trascurato neanche un altro aspetto quello dell'integrazione culturale e Ortona proprio il suo assessorato ha messo in campo un progetto importante che ha proprio cercato di coinvolgere i nuovi arrivi nella città di Ortona quindi i migranti che si sono fermati in questa città e la cittadinanza di Ortona Certo ormai non si può non pensare a una società multietnica quindi anche Ortona noi viviamo con 54 nazionalità diverse cercando di favorire ogni giorno la convivenza più armoniosa possibile questa non la si crea così con interventi una tantum la si crea con progettualità e con lungimiranza quello che questa amministrazione ha messo in campo ormai da anni crediamo di poter vantarci di avere un centro servizio immigrati con tutti i servizi che sono inclusi appunto in questo ufficio che accoglie assiste e sostiene la persona immigrata perché è una persona che deve essere parte integrante della nostra cultura nella sua diversità non possiamo non parlare a questo punto anche del caso di omicidio di alcuni giorni fa che si è verificato proprio qui ad Ortona un'anziana signora vedova allettata è stata uccisa e il responsabile che poi ha confessato è un cittadino straniero sì io focalizzerei l'attenzione sull'omicidio sul senso della vita che ormai si sta perdendo e quindi è un fatto di cronaca che è circoscritto a se stesso non c'è alcuna allarme sociale è una storia che probabilmente le cui ragioni di questo delitto sono da ricercare nel vissuto degli attori che sono stati appunto in questo tragico episodio e questo spetta la magistratura a noi spetta invece continuare ad investire sull'integrazione e quello come ho detto qualche giorno fa noi puntiamo su questo perché crediamo fermamente nella convivenza tra persone di nazionalità diverse di culture diverse di tradizioni diverse Ortona è una città di mare quindi è già vocata all'accoglienza e deve continuare su questa strada questo lo facciamo con professionalità che sono qui anche a fianco a me del centro servizio immigrati che cerchiamo di preparare soprattutto professionalmente ogni giorno ma che loro hanno dalla loro parte una grande umanità che mettono a punto nel servizio che attivano tutti i giorni 27 maggio 2011 dunque si conclude la terza edizione della giornata della legalità a Ortona per l'anno prossimo si sta già pensando di organizzare la quarta assessore beh certo siamo a fine legislatura a fine mandato quindi però ci prepariamo con quella tranquillità con cui abbiamo iniziato questa amministrazione l'amministrazione fratino io ci tengo a ringraziarlo il sindaco in particolare ma tutta l'amministrazione comunale ha investito molto su questo progetto che ormai è diventato un percorso educativo didattico in simbiosi con la scuola tra l'amministrazione la scuola e soprattutto anche le famiglie che abbiamo diciamo quasi costrette a partecipare al progetto io la ringrazio per questa domanda anche perché come ho detto siamo a fine mandato a fine legislatura noi abbiamo cercato nel nostro piccolo di creare un percorso positivo in cui tutti possano camminare e possano apportare il proprio contributo e questo spero che venga seguito questo esempio venga seguito anche da chi verrà dopo di noi io mi auguro logicamente di continuare a dare il mio contributo come tutta l'amministrazione ma se questo non dovesse avvenire mi auguro che chi verrà dopo di noi non vanifichi tutto quello che questa amministrazione ha investito e ha fatto perché credo fermamente che la cultura della legalità è un qualcosa che non ha colore politico la sveglia sta suonando ma fatela taccere perché di andare a scuola proprio voglia non ne ho alzarsi così presto non ne puoi salutare ragazzi prima poi mi ammalerò invece tra la scuola c'entro cose devo far l'inglese parla a volo e perfino la fin dance al fine settimana non ne posso proprio più mi serve una ricarica per tirarmi su ma un sistema rapido impallibile e geniale fortunatamente io ce l'ho se me lo chiedete per favore il segreto io vi svelerò ma sì ma dai e chi ce l'ha anche a noi sono le tagliatelle di nonna Pina non chiedono che energia effetto vitamina mangiate calde con ragù con ragù ti fanno pieno per sei giorni e anche più le tele di nonna Pina sono molto più efficaci di ogni medicina sensazionale piangere c'è la mia meia sono buona per un mattino al post del caffè yeah finita ci sono arreggi questa prega ciao 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 ciao